Tito 3 verso 5 Egli, cioè Dio, ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. I falsi dottori offrono invece un Vangelo basato sulle opere giuste degli uomini contrapponendosi così a quello che dice Paolo in Romani 3 verso 10, che non vi è nessuno giusto, neppure uno. Nel Vangelo pervertito non si parla della grazia di Dio, non si parla del dono della salvenza, non si parla della giustificazione per fede, non si parla della giustizia che viene messa in conto di fede. Negando la dottrina del peccato originale, essi ignorano ciò che dice Paolo in Romani 3 versi 22 e 23, vale a dire che tutti hanno peccato e tutti hanno bisogno della grazia di Dio, e dicono invece che gli uomini non sono per natura peccatori, essi affermano che Dio è il padre di tutti gli uomini. Perché Egli li ama, basta che gli uomini fanno il loro meglio per essere accettati da lui e per entrare nel regno di Dio. L'effetto di questo Vangelo distorto e pervertito è quello di sovvertire l'intero piano della redenzione per la salvezza del genere umano e di portare gli uomini sulla strada che conduce alla distruzione. Invece di portare vita, porta morte. Invece di offrire salvezza, assicura la dannazione. Invece di guidare gli uomini al cielo, li getta nell'inferno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.